Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata di questa serie sull'ombra della guerra chiamato l'ombra della guerra e dell'ignoranza Spero che inizieremo presto la marcia Vediamo un po' quest'assalto, vediamo come va Penso che siamo abbastanza preparati per quest'assalto, penso, spero, eh Loro sono tutti occhi tranne un 50, poi tutti gli altri orchi sono sotto il 50 Mentre noi abbiamo comunque un orco in più e ne abbiamo tutti, tutti i livello 50 Potenzialmente assedio, aspetta, io però, potenzialmente assedio, l'ultima cosa L'ultima cosa, io ce la metterei Allora, perché potenzialmente inattivo? Eh, attivano, attivano Perché non... Allora, potenzialmente assedio, io perché non... Cosa dovrei fare? Potenzialmente attivo, altre cellinze Ah, questo mi fa vedere quello che c'ha Va bene Iniziamo Siamo pronti Iniziamo, vediamo Vediamo come la va Sperando Per il meglio E non per il peggio, ovviamente Sei un Nazgul di Minas Morgon Ma non appartieni a Saul Per adesso Ah Questa fortezza appartiene agli Uruk Non ha omuncoli che giocano a fare la guerra Ah Ok Va bene E allora Io Eh Semper uscito qualcuno Dai che lo facciamo fuori Aspetta No Io non volevo che morisse Volevo prenderlo per me Come mio alleato Mia Su, 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 su Su Aspetta che Vai Boom Poi Sì Boom Boom Ok Ole E Bam 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 Boom Poi Aspetta che Io voglio Perché questo qua Ah BOM Ora Ole Recluta Come voi Bubolos greco la torre Tu Ah Abasamento Adesso Io direi Noi stiamo Ma stiamo resistendo Così bene Aspetta Però Io mi servono Le frecce 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 Scendi Porca Mi se Non mi scende Ok 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 Perché c'è uno Sanguinante Scendi Scendi Che devi Scendi Vabbè Non Io premo Premo per farlo scendere Non scende Non so perché Mentre c'è un Miorco Sanguinante Da solo Perché 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 Che sei sanguinante Che sei sanguinante Ma che È fatto da solo Che ha fatto solo Vabbè Va bene Ma stanno Stiamo resistendo Beh no Ne devo dire Allora C'è di anche Stanno Allora Vai Perire proprio Porca Puttana Va bene Oh Figlia Ah Ma porca Oh No È morto Non lo so Che cosa Succede Ah ecco Aspetta Mentre quello Vabbè Smono io Mentre Vabbè Monta Smonta Vabbè Io sto facendo Non so che cosa Aspetta Eh 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 Fatemi Andare a prendere quello Fatemi Andare a prendere quello Fe Uncchia Un serocito Ma che cosa Pottana L'accalaffiatore Ucciso Gli hanno fatto L'onda energetica A quanto vedo Mentre un altro Teru Servaggio Ucciso Benissimo Mi stanno Andando Alla grande Io Mentre ce n'è uno Ancora sanguinante Dei miei E andiamo a Aiutarlo Ok Vai Porca miseria Vai Tu Tirati su Mi servi vivo Poi ce n'è un altro Uno confuso Ce n'è Ollick Lecca ossa E' andato Perfetto I miei stanno Lavorando Bellissimo Dove dire Facciamo Non mi stanno Niente qui Stanno Niente dei miei Aspetta Mi hanno preso Capo Sì Per la seconda volta E ti tiro su Qualcosa Sono contento Però Dovresti farlo Dutti Diffamatore Morto Avvenenato E' andato E' andato E' andato Morto E' andato E' andato E' andato Grazie D'aiuto Perfetto Conficci la prossima Andata Che sono Lì Ok Ok Va bene Sole Va Porca Puzza Via Ma quanti Cazzo Sei Vandinga Sei Via Porca Porca Ma porca Puzza Quanti Che Aspetta Che là Sono tutti Infelociti Prega Sono tutti Infelociti Vai Ma ti Volete Vabbè Io Mentre Là C'è uno Sanguinante L'altro C'è pure Sanguinante Ok Però Nonco Rastora Caverla E' morto Ok Mentre C'è C'è un altro Sanguinante Ma porca Og Di una fiamma Morto E' un livello 50 Buono E' Norco Il selvaggio Tutti Stanno cadendo Giù Tanti Come mosche Ora Io Devo Un attimo Uno E' Ritirata E' Uno Dei Loro E' Ritirata Vai Le mani Di una fiamma 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 Non puoi stare Vieni Tu Sarai con me Sono fedele Allo scuro Signore Alla sua Volontà Va bene Vai a fare Il culo Ok Fedele E' Humiliado Oi Nacra Coletista Di orecchio Ah Ok Va bene Ah Guardate Il culo Ucetile Ok Boom Io Qua Questo Il culo E che lo facciamo fuori Facile Mi servono Poi Poi Precce Precce Mi servono Precce Mi servono Precce Tanto ho capito Che questi Non ne posso Recutare Neanche uno Precce Precce Mi servono Precce Ok Intanto Oh Benissimo Un altro De loro Oh Le A posto Così Pure Le Se Puzioni Alla Grande Abbiamo Finito Oh Aspetta Che qua Dove E' Finito Quello Dove Dove E' Finito Tempere Uscito Vaffanculo Porca di Oh Bravissimo A posto Così E anche Il collezionista Di orecchie Andato Ma che Cazzo Così Mi Piace Ok Abbiamo Finito Vittoria Ce l'abbiamo Fatta Porca Non ci ho Capito Un cazzo Ma ce l'abbiamo Fatta Ok Abbiamo Tenuto Un punto Abilità Un sacco Di roba Regione Difesa Direi che abbiamo Finito Con la Ok Va bene Ora Io direi A questo punto Vedere un attimo La situazione Perché Allora Assalto qua Non ce l'abbiamo più Ok E questa È una cosa Poi Benissimo Campioni Adesso Che cosa Ci attende Ah Adesso Dobbiamo Fare Forza Quelle Qua Si sono Gli avamposti Qua Ci sono Le fosse Vermi E campioni Aminas Morgul Ma Non era Finita La No Non è Finita Perché Dobbiamo Ah Ecco Lo vedi Non è Finita Perché Dobbiamo Fala A Gashgor Ah no A Golgoroth E a Fereghost Le Se Ne Ghost E Allora Boh Direi Facciamo Facciamo Un salto A Golgoroth No Facciamo Un salto A Golgoroth Vediamo Vedere Come Come Siamo Messi Lì Per Conto Riguardo A Questo Assalto Il prossimo Assalto Potrebbe Essere Il prossimo Assalto Ecco Qua Insomma Non Scusate Vi Scusate Parlare In maniera Un po Sconnessa E perché Nel frattempo Sto cercando Di capire La situazione Cioè Non riesco A capire Sinceramente Come Sono Messo Se Mi Sta Andando Avanti La Storyline In qualche Modo Perché So Che C'è Questa Guerra Delle Ombre Da Fare Da Finire E So So Che Per Andare Arrivare Al Al Finale Quello Vero Bisogna Passare Da Questa Guerra Ombre Per Fare Altre Missioni Ora Noi Siamo Qua Con Questi Qua 48 48 48 Altri Devo Dire Non è che Sono messo Malissimo Qua Noi sono messo Proprio Male 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 Non E Ho Tanti Ma Quelli Che Ci Sono Non Di Livello Basso Si Può Si Può Ragionare Allora R1 Potenzialmente Al Sedio Vediamo Un Po Vediamo Un Po E C'è Da Spenderci I soldi Allora Forza D'assalto No Golgoroth Ecco Io sono Io Dall'assalto Mi devo Difendere Allora Potenzia Fortezza Olè Comandante Poi Allora E Assegna Il Seguace Allora Chi ci assegnò Vediamo Un po' Ura Il Credente Arbeno Lottatore Della Fossa Si Si Poi Acquistiamo Anche Questo Potenziamento Assegna Il Seguace Allora Amug Amug In bestione Si Ok Poi Potenziamo Anche Questa Assegna Il Seguace E Chi ci assegniamo 45 Amug Quanti Amug Amug Questa È La terra Degli Amug Questo Ah Qua Devo fare La fossa Devo completare La fossa Campioni Per avere Sbloccato Quello Ok Quindi Mi sa Che Devo Andare Sbagliato Devo Andare Ecco Fatto Alla mia Fortezza E organizzare Un po' Tutto Il da farsi Ecco Allora Alla fine Non è Qua la situazione È abbastanza Tranquillatemi Di livelli Nel senso Che Tutti Gli orchi Che c'ho Sono livelli Abbastanza Ok Dicevo Vabbè anche perché Onestamente ora mi ricordo Qua stavo preparando L'assalto Prima di Vedere Prima di vedermi Praticamente Riannullato Tutte cose Qua stavo preparando L'assalto Ecco perché le cose Qua sono Sono messe Abbastanza bene Allora io devo fare La fossa Campioni Queste sono Quegli eri Qua Fossa Campioni Ok Allora Tu chi sei Cinquantate Pracchi Il temerario Non mi piace Sta cosa Vabbè Non mi piace Allora Vediamo una cosa Vediamo se Sto Pracchi Il temerario C'ha qualche punto Debole Posso sfruttare Paure delle inchiodature Feta Atacchi Dalle bestie Ok Un arciere Un arciere A cavallo Di Caragor Io un po' Allora Esercito Chi posso mandare Allora Uno che Ecco Arciere E cavallo Allora Or Porco il condottiere Ordine di addestramento Direi Ti facciamo Si faccio salire Di livelli Si faccio salire Quei tre livelli Che ti Termano Eeeh Ordina 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 Addestramento Ok Poi ordina Ordina Addestramento Sempre porto Il condottiero Bene Così Ordina Ordine Addestramento Addestramento Un altro livello Eeeh Ordina Ordine Addestramento Gli do una cosa Leggendaria Allora Addestramento Leggendare Questo No Fa L'oste Inventi Diventa Leggenda Però Vi spendo 20.000 No Allora Addestramento È il primo Campionato Qui c'è Una Caterina Di Allora Questo C'è una Banda Che ne Edica Alcune Caratteristiche Avevano Tenito Un Seguaggio E Potenzial Di Quello Etico Eeeh Va bene Eeeh Va bene Dai Oh E questo C'ha forza In male Forza In male Da Arcere Una Minchiata Però Va bene Comunque Borchi Il condottiero Proviamo Lui Mi serve Perché mi Serve E fare Poi La lascerò Stare Però Alla Forza Campioni Visto I livelli Che ci sono Allora Seguaci Dov'è Bork Bork Condottiero Dai Ho provato A studiarmi Al mio modo Possibile È sotto Di due Livelli Non sopravvivrai Di certo Un sotto Di due Livelli Vediamo se Sparocito Dai Caracol No Interocito Dai Caracol Ma non c'era detto Che era ferito Dai Caracol Invece Si interocisce Quei Caracol Vai Dai Dai Tira I qualche freccia Poi soffri Attacchi a distanza Tira I qualche freccia Niente Niente Vabbè Il cazzo Sta facendo Il cazzo Sta facendo Si avvicina Pure Gli olog Stanno un attimo Tamponando la situazione Va Va Niente Va Allontanati Vabbè E allontanati Ma io Non Vai Boh Tiragli qualche freccia Avanti No Presto Soldi Ok Ok Penso Per capire la situazione Allora Guardi Giorno Me l'ha data la guarnigione Ok Allora A posto di Bork Che questo Ho capito Che Questo Tu 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 Grom Gustoso E Vai Se Gustoso Basta Non ti fai manciare Poi Va bene Ok Ah La situazione Non è Delle Migliori Cioè A livello Veromani Ci siamo Basta poco Per potenziali Il problema È che Non ne ho tanti Quindi Flak Il ratto Io Vorrei Conservarmelo Per la prossima Per la prossima zona Ecco Vorrei conservarlo Quindi Io Esercito Allora Teneremo Giù Un Red Un Forte Questo La mia Guardia Corpo Aster Il Fidato Finché Questo È Potentissimo Grom Gustoso Allora Prendiamo un po' Allora Un'altra Volta Questo È Inferocito Dai Caracor E non Sono Curioso Sono Curio Sono Curiosito Voglio Voglio Vedere Quello La In mezzo Ai miei Quanto Resiste O Quanti Ne Fa Fuori Lo Voglio Vedere Va Bene Va Dove Vediamo Così Da Lontano Quanti Ne Sta Facendo Fuori No Voglio Vedere Scusate Minchia Mi Hai Lasciato Morire In Battaglia È Come Se Mi Avessi Pugnalato Cosa Ma Sono Vivo E Ho Giurato Di Trovare Vendetto Ho Fatto Davvero Un Errore A Seguire Un Golugmor Va Bene Scusate Ho Avuto Siamo 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 Là Siamo I piani Quei piani Di attacco Quelli Vai 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 Ok Ok Vediamo che lo piantiamo un po' Ti ucciderò Diciamo che non sei stato molto logico L'ingegnerante Però sì, ti direi A occhi e croce Ah No Boom Ok Mentre là quello sta ancora Si sta ancora Dicendo quell'altro Boom Ah, mentre tu sei ancora infelocito Ti aspetto che smetta di essere infelocito, sapete Voglio vedere se riesco a riprenderlo Potrebbe essere una risorsa abbastanza importante Dai che strevato Ok Ti ho un'altra possibilità Torna con noi E' il mio esercito Ben presto, ti distrangerò Niente E allora mi dispiace per te Dicendo che Non Ti ho un'altra possibilità di E' l'altro Ti sentiamo che Mi 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 Vabbè Io se vedete le cose No Bene Dilaniato Ok Caro vedente Non ci hai visto abbastanza bene Qua c'è l'altro Però io Scusate Voglio vedere Ecco frecce Torniamo su Dove è finito Ma che cazzo Cos'è che ha esploso Che E mi spiace Purtroppo le cose cambiano Paura delle Inginocciature Ora è confuso Via 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 Perché vuoi questo qua Io Sarei quasi tentato di Perché che Incompiscono a me Ok Olè Penso di non poterlo reclutare Infatti Umiliamolo Wow Wow E' impazzito E' impazzito Questo Ok Oh Abbiamo fatto un po' di movimento R.P.A. in questa puntata Un po' di movimento Diciamo Imprevisto E direi che per questa puntata Possiamo anche chiudere qua Ecco Possiamo chiudere qua Darci appuntamento Alla prossima puntata Con l'ombra della guerra Dell'ignoranza E' Non so Forse Non so cosa fare La prossima puntata Magari Magari cercherò di sbloccare La forza campione In modo tale Di avere un potenziamento In più E magari poi Da quel momento in poi Cercherò di lavorare In maniera normale E tranquilla Sul Sul potenziamento Delle mie difese Che Quanto pare Serve Anche parecchio Quindi signori Niente Semplicemente Un saluto a tutti quanti voi E alla prossima Fa che bello che sono Grazie a tutti i nostri spettatori